I comuni della Valle Subequana non hanno una vocazione turistica, secondo il Governo, dal momento che sono stati esclusi dai fondi ministeriali. Per questo i sindaci di Molina Terno, Castelvecchio Subequo, Secinaro, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli hanno scritto al Ministro Daniela Santanchè per chiedere di mettere da parte queste classificazioni che finiscono solo per creare disparità e contrapposizioni in territori omogenei e utilizzare nei bandi, anche futuri, in riferimento ai piccoli comuni, esclusivamente l'elenco di cui è la legge numero 158 del 2017. Da sempre nei piccoli comuni abbiamo imparato a lavorare insieme, dimostrandoli saper guardare oltre i nostri confini, convinti che solo questo sia il modo per affrontare le difficoltà, favorire una crescita, uno sviluppo del territorio, scrivono i sindaci, sostenendo che questa classificazione, così come l'indice di vulnerabilità sociale e materiale utilizzato nel fondo di sostegno ai comuni marginali risulta dannosa non solo per la nostra valle ma per tutto il paese, in quanto finisce per generare logiche municipalistiche e campanilistiche oltre a penalizzare centri ricchi di storia, cultura, beni artistici e paesaggistici.